Prima di incominciare il Tg, ancora una precisazione. Ieri sera durante il telegiornale con Mauro Tavella avevamo parlato della scadenza dell'assicurazione e appunto Tavella aveva ricordato che la norma era cambiata e quindi non c'erano più i 15 giorni di proroga dopo la scadenza per poter andare a rinnovare l'assicurazione e quindi si era scoperto subito dopo la scadenza. Invece, lo stesso Tavella quest'oggi ci ha chiamato dicendo di fare un'erata corrige perché all'interno del mille proroghe è stata reintrodotta questo lasso temporale di 15 giorni dopo la scadenza come periodo di copertura appunto per coloro i quali avevano l'assicurazione scaduta. Questa notizia va data appunto per non creare incertezze e dubbi nei nostri telespettatori.